Sono i seguenti i risultati. Numero di votanti 690. Schede di voto bianche o nulle 74. Voti espressi 617. Quindi la maggioranza assoluta è di 309 voti. E i voti sono stati così espressi. Roberta Mezzola, 458 voti. Grazie. Grazie. Congratulazioni a Roberta Mezzola. E buon compleanno. I restanti risultati sono i seguenti. Onore Alise Kunke, 101. Onore Sira Rego, 57 voti. Di conseguenza, Onore Mezzola ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e della nuova Presidente del Parlamento europeo. Vorrei porgere alla collega Roberta Mezzola le mie congratulazioni per la sua elezione. Formulo i maggiori auspici nell'esercizio del suo mandato. E naturalmente la invito, invito il nuovo Presidente Roberta Mezzola, ad assumere la presidenza dei nostri lavori. Grazie. Grazie.